va bene buongiorno a tutti benvenuti eh scusate se vi ho fatto un po' saltare dal portale della didattica alla piattaforma zoom ma almeno per un'ora e mezza di lezione non ci dobbiamo preoccupare di problemi tecnici scusate la cattiveria che mi è saltata fuori ma eh direi che qua siamo siamo al al sicuro essenzialmente anche se non è lo strumento ufficiale però io sono convinto che sia importante puntare all'obiettivo e non tanto fossilizzarsi. Ok ehm allora questa lezione ovviamente viene registrata anche questa verrà caricata sul portale anzi poi dopo vi farò vedere anche una playlist su YouTube dove metterò eh lo stesso materiale eh di solito con tempi anche eh se ci riesco più rapidi di quanto sia il tempo che ci mette il portale ad elaborare le le lezioni. Allora questa eh la prima lezione di di questo corso di informatica eh si chiama informatica come come titolo quindi è semplice ma poco diciamo poco esplicativo eh noi siamo il corso quattro di eh di ventun corsi che ci sono al Politecnico il primo anno ventun corsi dei quali due sono in inglese uno è Montovì e gli altri diciotto invece sono sulla sede di Torino. Corso quattro che ospita gli studenti con con cognome che va in questo range eh alfabetico eh da vabbè non fatemelo leggere lo sapete meglio di me eh e in più eh ho avuto come bonus eh in regalo altri due gruppi di studenti eh uno è un gruppo di studenti che segue dalla sede del Politecnico che c'è a Biella eh con i quali eh ci sono delle modalità di lezione leggermente diverso perché ci sono dei dei tutori docenti locali e che mi incontrerò con loro la settimana prossima perché inizieranno più tardi ma fanno comunque parte del nostro corpo eh corso scusate e poi c'è eh una anomalia una particolarità dovuta al fatto che gli studenti di produzione industriale eh che hanno un primo anno diverso dagli altri non sapete che il Politecnico il primo anno è uguale per tutti tranne un corso del secondo semestre ma la produzione industriale invece fa storia a sé quindi è un primo anno abbastanza diverso per fortuna per loro però loro il primo anno hanno anche il corso di informatica e per evitare complicazioni col fatto di corsi diversi da di analisi chimica eh che le devono fare hanno eh diciamo hanno scelto di inserire tutti gli studenti di produzione in un corso solo anziché dividerli per lettera alfabetica qui noi avremo un elenco di persone strano che sono estremamente concentrato intorno a lettera C e poi un po' di persone che invece sono quelli di produzione industriale che hanno qualunque lettera eh di 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 cognome che possono avere eh quindi una combinazione un po' curiosa ma eh non è un problema ci faremo l'abitudine eh spendo i primi minuti essenzialmente sul tema del benvenuti adesso noi siamo già l'ultima lezione della giornata però ci tenevo eh a darvi un benvenuto eh al Politecnico eh darvi un benvenuto al 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 corso di informatica da parte mia e dei collaboratori che eh mi aiuteranno durante questo corso che sono elencati qua eh tra l'altro sono anche collegati in questa in la chat in questo momento ehm c'è una persona che non sente penso sia l'unico però se avete se altri hanno problemi me lo dicano ehm eh dicevo eh anche a nome dei collaboratori che sono anche collegati in questa chat eh che sono Juan Pablo Sainz e Luisa Barrera León che sono eh qua rappresentati ehm anche con le fotografie ma li avrete modo di incontrarli di vederli sia diciamo così in videoconferenza sia di persona a partire dalla settimana prossima quando inizieremo anche i laboratori quindi le parti di lezioni esercizioni in aula quindi diciamo quelle che vengono fatte totalmente online eh per buona parte le farò io e una parte le farà anche Juan eh le parti invece di esercizioni in laboratorio sia quella della giornata del giovedì parte online e parte in in presenza le faremo tutti e tre quindi ci daremo il 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 turno in laboratorio ok però diciamo così trovate tutte le indicazioni più avanti vi dicevo eh partiamo con un benvenuti eh vi do il benvenuto a ingegneria no nel senso che questo corso è il primo corso di ingegneria che state affrontando eh il resto della giornata l'avete passata a fare cose che sono di matematica sono di chimica sono scienze di base e cose di questo genere e arrivando da da una scuola superiore probabilmente vi siete già anche abituati al modo di pensare no della della matematica per carità l'analisi matematica che si fa qua come primo eh come primo corso di analisi matematica è analogo a quella che avete fatto il quinto anno di liceo semplicemente alla velocità dieci per ma ehm il modo diciamo l'approccio diciamo che è abbastanza simile l'ingegneria invece ha un modo di pensare particolarmente diverso particolare diciamo così ehm perché l'ingegnere alla fine non deve fare i conti non deve far tornare un risultato ma deve eh creare un prodotto creare un prodotto che prima non esisteva eh e quindi eh ha un modo di pensare particolare dove magari non interessa il risultato esatto al millesimo interessa qualche cosa che più o meno dieci per cento però se ci passa sopra un camion non crolli ecco una cosa di questo genere quindi un modo di ragionare abbastanza diverso costruttivo eh piuttosto che eh analitico dove ovviamente ci saranno le basi anche teoriche e analitiche per poter essere sicuri di fare la cosa giusta ehm quindi in questo corso eh poniamo le basi anche un pochino eh per il ragionamento ingegneristico la forma mentis dell'ingegnere ok non dico che gli altri corsi di quest'anno non siano importanti sicuramente vi danno le basi ma ve le danno dal punto di vista delle scienze di base e non dal punto di vista eh dell'ingegneria ehm in particolare ingegneria ma ingegneria eh informatica e quindi il tipo di problemi che noi ci apprestiamo a eh risolvere sono problemi eh che risolviamo con gli strumenti dell'informatica quindi con strumenti di calcolo di interazione di di interfacciamento di eh che si possono risolvere usando un calcolatore usando un computer usando le reti usando i server e cose di questo genere ok eh abbiamo visto la tribolazione della giornata eh che cosa ci porta quando l'informatica non funziona come dovrebbe ehm e quindi applicheremo al dominio dell' informatica questo modo di ragionare di problem solving e essenzialmente affrontare problemi trovare soluzioni che è tipico poi di tutte le eh le 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 discipline ingegneristiche per questo che il corso di informatica è messo davanti a tutti all'inizio proprio perché ci da anche ci abitua a a ragionare in in un modo che è anche applicabile poi alle altre discipline che voi fate. Allora se se avete voglia spediamo magari due minuti eh visto che voi sapete tutto di me perché avrete spettegolato in giro eh ditemi e ditevi qualcosa di voi se volete. Ehm avete voglia di scrivere a quale laurea siete iscritti? Così tutti nella chat ci facciamo un'idea poi mi salvo la chat e farò magari due statistiche siete ben assortiti vedo ho visto un non so però nessun mi vergogno quindi eh siamo già eh a posto ehm ok poi magari da appunto salverò questa chat e cerchiamo di fare anche due statistiche eh per coloro che ho visto proprio scorrere velocemente voglio passare un altro corso di laurea sapete che lo potrete fare ovviamente l'anno prossimo eh nei limiti della capienza perché ci sarà cioè c'è un numero limitato di persone che possono entrare nei corsi nuovi eh se eh si sono liberati dai posti non abbiamo questo sistema delle di numeri programmati per cui eh oggi si parla si parla di aerospaziale è piena ovviamente ma se un certo numero di persone non passerà il secondo anno allora ci saranno dei posti per chi vuole cambiare da un altro corso di laurea verso quella quindi voi dovete gufare contro chi attualmente eh sta seguendo quei corsi di laurea e invece prende dei bei voti eh per riuscire a essere alti in graduatoria quando ci saranno da fare il cambio di corso e da dove eh da dove arrivate? Dove siete adesso? quindi vedo molti che eh in qualche modo sono ancora lontani da Torino e quindi hanno scelto direi di seguire in remoto grazie al fatto che quest'anno l'organizzazione è di questo genere che chiaramente crea miliardi di problemi ma magari anche qualche piccola opportunità e abbiamo anche una persona dall'Iran vedo che è con noi e fa parte del nostro corso benvenuto soprattutto lui o lei e tra la possibilità online e la possibilità in presenza come pensate di orientarvi? Scrivete presenza oppure online? Io spero che le le capienze delle aule tendano ad aumentare sapete che il Politecnico adesso si è dimensionato sul venticinque per cento dei posti pare che il ministero conceda fino al cinquanta per cento quindi se le cose vanno bene tendenzialmente dovrebbero riuscire a aumentare i numeri di posti disponibili eh e quindi si dovrebbe riuscire anche a a concedere la possibilità di venire in presenza a buona parte di voi. Vabbè questa è un po' la condizione particolare a cui dobbiamo adattarci. Eh in questo corso la la parte in presenza è limitata al laboratorio e quindi poi parliamo dopo su come viene organizzata mentre tutte le lezioni sono invece pensate online. Quindi non ci sarà non ci sarà in questo corso di informatica nessun momento in cui sarete alcuni in aula e altri online. cioè la classe è spezzata non la facciamo. Quindi quando facciamo la lezione online sono tutti online e quando facciamo la lezione in laboratorio siamo tutti in aula e non c'è nessuno collegato in remoto. Quelli collegati in remoto saranno l'ora successiva o l'ora precedente. Ok? Quindi non dobbiamo gestire queste strane cose psicopatiche in cui il tuo cervello si divide in due perché hai una classe di qua e una classe di là. No. Ok. Noi facciamo informatica. Qualcuno di voi sa già programmare in qualche linguaggio? No. Non dirlo così scorata. Non è un problema. Allora innanzitutto non è un problema. Noi partiamo da zero. Infatti quando vi ho detto l'introduzione del corso vi ho detto, non vi ho detto questo corso serve per imparare un linguaggio. Questo corso serve per imparare un ragionamento, un modo di ragionare, un approccio ragionamento alla soluzione dei problemi. Che poi usiamo un linguaggio chiaramente perché stiamo usando un calcolatore e questo è lo strumento. Ok? Però per costruire una casa non... il mattone è lo strumento ma non è il punto di partenza e il punto di arrivo. Ok. Quindi è giustamente una... cioè siete giustamente un gruppo molto molto variegato che chiaramente sarà composto da ciò che avete imparato. Di solito si fa un po' di programmazione perché arriva da scienze applicate e per molti di quelli che arrivano dagli istituti tecnici. Però ci sono molti altri che arrivano senza basi. Non spaventatevi. Magari chi non sa nulla dovrà fare un pochino più attenzione all'inizio soprattutto al metodo, all'approccio. Chi sa già qualcosa magari deve fare attenzione a riprendere ciò che sa. Riprendendo alcuni ragionamenti che magari nelle scuole superiori vengono un pochino semplificati o dati per scontati ma sì basta che funzioni più o meno paciocchiamo qualcosa finché viene. Ecco questo chiaramente ingegneria non è molto accettabile. Ok. Questo adesso chiaramente ci siamo conosciuti vedendo scrollare rapidamente una chat però poi la possiamo analizzare con calma e magari ragionarci su. Ok. Allora programma del corso. Quindi che cosa facciamo? Che cosa facciamo se io vado aprire il portale, scusate mi viene da ridere quando dico vado ad aprire il portale della didattica perché è tutto il giorno che ci proviamo. Ehm se però quando riesco ad aprire il portale didattica vedo che nel programma del corso essenzialmente ci sono ehm delle cioè c'è un riferimento molto forte al problem solving cioè la capacità di dato un problema di analizzarlo formalizzarlo formalizzare il problema formalizzare la soluzione e poi implementarlo attraverso lo strumento informatico e quindi attraverso dei processi diciamo così formali ed esatti di esecuzione. Ehm quindi questo in qualche modo si tratta come abbiamo già detto no di essere in grado di affrontare l'analisi e la soluzione di un problema e poi ma parla sui costrutti di un linguaggio di programmazione che permettono certe cose essenzialmente no? Eh che permettono certi tipi di operazioni eh e quindi su su questo tipo di operazioni bisogna riuscire a mappare quelle che sono invece le richieste di ehm date dal dal soluzione al problema eh che vogliamo ottenere. In particolare quest'anno e tra l'altro è il primo ehm il primo anno in cui questo viene fatto eh quindi oltre al covid oltre alla distanza a distanza c'è anche il fatto che quest'anno per la prima volta abbiamo cambiato linguaggio di programmazione e viene fatto il linguaggio di programmazione Python che dovrebbe rispetto al passato eh avere meno problemi di tipo sintattico di tipo diciamo così banale di basso livello e eh potrebbe dovrebbe poterci permettere di affrontare dei problemini degli eserciziati anche un pochino più diciamo così interessanti non dico divertenti non pretendo che che l'università sia eh necessariamente divertente. Eh al a later del programma principale del corso cercheremo di darvi degli spunti di approfondimento eh perché il mio obiettivo vero è che voi dall'anno prossimo ma dal prossimo semestre quando questo corso l'avete superato non ci pensate più non vi dimentichiate tutto non vi dimentichiate dell'informatica ma vi ricordiate che nel vostro lavoro no? Io abbiamo visto prima che molti sono di ingegnerie diverse nel nella vostra professionalità vi ricordate che per risolvere certi problemi uno dei modi è quello di passare attraverso l'informatica attraverso la programmazione attraverso fare un programmino che sia in grado di risolvere eh o di affrontare o di analizzare il problema invece di discipline diverse che può essere un problema meccanico un problema eh logistico gestionale quello che può essere eh e quindi non vi facciate diciamo spaventare non siate spaventati dal fatto di dire ma io quelle cose non le so fare in realtà eh al giorno d'oggi la la ehm le tecnologie no? Di di programmazione sono evolute tantissime quindi sono un po' alla portata di tutti. Ehm ci arriviamo ci arriviamo linguaggi di programmazione è la prossima lezione. Eh ok poi se vogliamo andare in dettaglio sul portale c'è scritto tante ore di una cosa tante ore dell'altra ma eh a me ha sempre eh lasciato un pochino eh il tempo che trova sentirmi raccontare o dovervi raccontare un elenco di cose di che per ora non siamo non conosciamo ancora non sappiamo ancora come che cosa vogliono dire. Ehm io vi lascio solo una slide no? Sul fatto di eh del perché e che cos'è questo linguaggio Python che molti eh ho visto che molti nelle nella scuola precedente non lo conoscono non l'hanno citato eh anche tra quelli che hanno fatto altri linguaggi molto era presente un pochino di C, C++ eh un po' di Java eh e qualcuno forse solo uno o due hanno citato il Python come come conoscenza pregressa eh in realtà è uno dei linguaggi che secondo queste statistiche alla fine se le gioca tra i tre e quattro principali ok? Quindi eh un po' curioso no? Che se andiamo confrontare il vostro campione no? Cosa avete detto che avete fatto nelle scuole superiori oppure per hobby oppure no? Per conoscenza personale con quello che è la diffusione attuale dei linguaggi chiaramente le prime posizioni ci ci sono no? Sono state citate eh la primissima no eh invece recuperiamo quest'anno ma noi non abbiamo scelto per ragioni di popolarità di 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 percentuale di diffusione eh in realtà l'abbiamo scelto più che altro per ragioni di didattiche essenzialmente ma ehm la domanda principale di oggi eh eh sì ma in pratica cosa vuol dire quello che ci hai raccontato di formalizzare un problema fare un programma eccetera eccetera no? Cioè mi hai detto delle parole ma se io non l'ho mai fatto come dice giustamente il signor ventottomila eh che cosa che cosa corrisponde in pratica cosa vuol dire? Allora per farlo ehm io prendo una domanda molto semplice immaginiamo di voler risolvere un problema banale quali sono i nomi di battesimo più frequenti in quest'aula scusatemi il termine aula ok? Eh che un aula non è. Allora questa è una cosa semplicissima cioè tu vai in giro al mattino al mercato a comprare la verdura e si dà ma qual è il nome più frequente? Va ci sono più Antonio che che Giuseppe che Francesco. No parliamo del tempo parliamo del più del meno parliamo di ah quanti guarda quanti bambini si chiamano con si chiamano Gaia. Allora come facciamo rispondere a questa domanda? Questo è un problema semplice semplice al punto che ci sembra intuitivo cioè sì ok se mi fai questa domanda io so rispondere. allora dobbiamo capire come fare di fronte a questo problema a far sì che sia un computer a risolverlo per noi ok? Perché non sembra ma adesso collegati siete 252 Andrea che dice li contiamo dovete sapere che gli informatici sono pigri ok? Quindi se dici 252 nomi li contiamo a mano l'informatico comincia a trovare delle scure no 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 che tu sono tanti sono troppi no? Noi tendiamo ad automatizzare ciò che può fare una macchina non la facciamo noi poi magari ci mettiamo dieci volte tanto di sforzo per scrivere un programma piuttosto che non farli effettivamente a mano però poi abbiamo soluzione generale ci piace questa cosa qua. Piano 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 con la funzione if non oppure inseriscono un vettore siete troppo avanti ma non avanti nel senso buono avanti nel senso di di state prendendo anticipatamente delle decisioni che invece non hanno senso non hanno ancora senso di essere affrontate. Allora prima di tutto prima di dare una risposta uno deve capire la domanda. Quindi una fase che noi chiamiamo di analisi. Prima ancora di raccogliere i dati cioè che cosa mi stai chiedendo? È ben posta la domanda. Cioè ci sono delle ambiguità in questa domanda oppure non è ben posta? Allora una certo uno mi dice ma chi non è battezzato quanti nomi, i nomi multipli? Allora cerchiamo di analizzare un po' di capire un po' meglio. Dobbiamo capire meglio il problema e capire bene quelle che sono le specifiche. Questo non è è un problema ma non è ancora una specifica di un problema, non è ancora una definizione esatta da cui possiamo partire per la risoluzione. Allora qui ci sono delle ambiguità. Una chiaramente è questo nome di battesimo che purtroppo è una struttura della lingua italiana. non c'entra niente col battesimo inteso come sacramento religioso. Semplicemente abbiamo il nome e il cognome. Però capite che se io scrivo solamente quanti sono i nomi non si capiva. Forse nella cultura anglosassone le chiamano first name e last name. non c'è un modo. Io ho scritto così perché in italiano si chiama così. Su un modulo se avete scritto nome e cognome capite qual è il nome e qual è il cognome. Se avete solamente scritto nome probabilmente scrivete tutto nome e cognome complessivo. Però qua ci siamo capiti. L'importante è capire il significato di questo. Quindi il nome quello che se vogliamo il modo più più neutro che ho sentito è il given name. Cioè il nome che ti hanno dato i tuoi genitori. Che è diverso dal cognome. Tenete conto che noi siamo in Italia ma non in tutto il mondo funziona col nome e cognome. A parte il discorso del battesimo ma il nome anagrafico a volte appunto in alcuni casi lo stesso concetto di cognome in alcune culture non c'è. Perché si prende il nome, il tra virgolette corrispettivo del cognome diventa il nome del padre che viene declinato. Peterson ad esempio. Il tra virgolette cognome Peterson del svedese in realtà vuol dire Peterson cioè figlio di Pietro. Quindi di fatto tu come cognome acquisisci il primo nome di tuo padre con un suffisso. Russia ad esempio in Cina ma anche in tutte le culture arabe di cui io non sono molto a conoscenza però di solito anche lì c'è un nome che è il nome che arriva da un parente, il nome che invece arriva diciamo così dalla divinità. Va bene. Noi non possiamo risolvere tutto questo ma riconosciamo che qui c'è un'ambiguità e cerchiamo di capire come risolverla. Ok? Poi l'altra cosa è cos'è un nome? Allora io mi chiamo Fulvio, va bene, ma chi si chiama Gian Mario, Gian Spazio Mario, Maria Adelaide? Cosa facciamo? Chi ha due nomi? Due, tre. Allora chi ha un nome unico Gian Franco tutto attaccato allora è un nome ma Gian Spazio Franco come lo conto? Conto Gian? Conto Franco oppure lo conto doppio lui? Vale due e quindi do un voto a Gian e un voto a Franco. A virgola? Non ho tolto questa cosa della virgola. Cioè mia sorella che lavora in Anagra ha detto che non vale più quella regola. È cambiato. In passato esisteva. Però anche qua dipende dalla dalla Anton Giulio e scusami ma il tuo è un nome che ha poche possibilità di essere più frequente. Però è una regola. Cioè anche qua la possiamo definire in sette modi diversi se vogliamo. Però una definizione dobbiamo darla perché sennò non possiamo risolvere questo problema finché non abbiamo smarcato questo punto. Cioè capire qual è la domanda. Capire i problemi. Soprannomi no. Qui parliamo dei nomi ufficiali. Più frequenti forse è l'unica cosa. Ok? Quindi in qualche modo dobbiamo disambiguare, togliere, rimuovere l'ambiguità da questa definizione qua. Quindi possiamo, io scusatemi ma scrivo non dico che scrivo come una gallina se no il sindacato della gallina si offende perché dice no, noi scriviamo meglio. E allora però in compenso ho perso il mouse. In compenso aspetta, scusate. In compenso sono veloce a battere sulla tastiera. Quindi proviamo a riformularlo. Questo diceva quali sono i nomi di vattene. Quali sono? Allora consideriamo, e qui non basta più una frasetta, eh. Consideriamo i nomi delle persone presenti in quest'aula. Però il resto lo copio, eh. Sulla base del nome registrato al Politecnico. Do la colpa a qualcun altro, ok? Quando vi siete immatricolati voi avete scritto in una casella nome e cognome. Vi prego. Siete voi che avete detto qual è il nome. Non devo essere io a capire qual è la regola, se è il nome di battesi, nome assegnato, primo nome, eccetera, eccetera. Quindi sulla base del nome registrato al Politecnico, considerando i nomi doppi separati da spazio come se fossero due nomi diversi. Quindi conta doppio. Ok? Oppure Deodoro non è d'accordo, lui dice io li conterrei unico. Va bene. è lecito, ok? È lecito. E l'importante è che decidiamo o in un modo o nell'altro. Allora questa è una domanda che mi fate sempre, no? All'esame, all'esercizio, ma questo qua come si può interpretare? Si può interpretare in un modo o nell'altro. Allora, nel mondo reale cosa succede quando tu hai una specifica che non è chiara? E beh, vai a prendere, alzi il telefono e chiami colui che ti ha dato questa specifica e dici guarda che questa cosa qua potrebbe essere fatta in un modo o nell'altro. Tu che cosa volevi? E allora via via si costruisce una specifica più precisa. In ambito didattico, diciamo così, durante un esame non è che possiamo fare questo giochino qua e allora la regola generale sarà sempre ovunque c'è un'ambiguità tu scegli una soluzione e la specifichi, lo dici. N, B, i nuovi doppi li considero come un tutt'uno. Va bene. N, B, i nuovi doppi li considero due volte come fosse due persone diverse. Va importante in logica di problem solving e aver riconosciuto che c'è un'ambiguità, capito quali erano i modi per uscirne e scelto uno. L'ingegnere sceglie. Non c'è un modo di progettare. C'è un modo per ciascuno di noi. Non c'è una soluzione giusta. Ci sono mille soluzioni giuste e poi cento miliardi di soluzioni sbagliate, per carità. Però in ogni sfumatura ci sono delle scelte progettuali da fare. Su questa piattaforma possiamo registrare con un nome diverso, certo. Infatti questo poi, io sto ponendo il problema finora, no? Poi cerchiamo di capire dove prendere i dati e capire se i dati che abbiamo a disposizione sono compatibili col problema che vogliamo risolverli. Se no, o cerchiamo i dati o cambiamo il problema. Certo. Non abbiamo mica finito. Non basta scrivere le cose affinché avvengano, no? Sarebbe bello. Però cerchiamo di finire questa frase. E poi finiva considerando i nomi. Sulla base, considerando i nomi doppi come se fossero due nomi, virgola, calcolare o determinare i nomi più frequenti. Sì, Massimiliano, sì. Se trovate un'ambiguità nell'esame fate una noticina, un commento, dicendo l'ho interpretata così. E se l'interpretazione che date è compatibile col testo, chiaro che se tu mi conti i cognomi non va bene, perché è un'interpretazione sbagliata. Ma le interpretazioni lecite che ci stanno nella specifica chiaramente fanno parte della progettazione. Ok, determinare i nomi più frequenti. Quindi siamo già andati un pochino più vicini. E giustamente, salta fuori la domanda, i nomi, quali, quanti, il primo, i primi due, i primi dieci? Beh, non c'è scritto. Dobbiamo scegliere. Ok? Scegliamone uno e poi andiamo avanti. Che cosa intendi con più frequenti? Il più frequente? Proviamo a scrivere. il nome più frequente. Ha senso? Determinare il nome più frequente? No. Perché non ha senso? Perché ci sono i pari merito. Giusto? Perché magari il nome più frequente ci sono su... adesso ci sono 250 persone collegate, ci sono 50 che si chiamano Maria e 50 che si chiamano Franco e allora qual è il nome più frequente? Non esiste perché se ne è più di uno. Allora determinare i nomi i nomi che hanno lo diciamo così e determinare la frequenza massima dei nomi e quindi i nomi più frequenti, i nomi che hanno tale frequenza massima. la domanda chiarisce un plurale quindi non può esserci ne uno non ho capito. Quali sono i nomi? La domanda è il plurale. però potrebbe essere come l'ho intesa io può essere anche più di uno perché magari se ci sono 50 e 50 sono due pari merito è plurale. Questo è un modo. L'altro modo potrebbe essere determinare i 20 nomi con frequenza maggiore. quindi li metti tutti in ordine e poi i 20 che sono oppure determinare tutti i nomi con frequenza maggiore o uguale a 2 sì maggiore o uguale a 10 quello che è 10 è un po' tanto e vabbè sono tutte possibilità in una fase così innocente si vede quante ambiguità ci sono qui noi però andando a diciamo così se il ventesimo e il ventunesimo hanno la stessa frequenza allora bisogna ancora raffinarla meglio questa cosa tutti i 29 con frequenza maggiore includendo anche gli exequo in coda e quindi se il ventesimo il ventunesimo hanno la stessa frequenza includo anche il ventunesimo e tutti quelli che hanno una frequenza uguale a quelle del ventesimo è chiaro che tu dici qual è quello giusto non so dipende da cosa volevo fare dipende qual è il motivo per cui facevo capite che se io faccio sono partito dicendo faccio quattro chiacchiere al mercato e chiediamoci questa cosa qua è una frase innocente non è uno scopo invece vi sto dando uno scopo è chiaro che se leggete questa frase qui non è più la frase che potete usare normalmente al bar piacchierando con gli amici ok questo è il motivo per cui mano a mano che andate avanti con l'ingegneria perderete tutti gli amici perché cominciate a parlare così cominciate a parlare strano pensare strano vedere dubbi vedere scelte vedere ambiguità in tutte le cose che succedono intorno a voi vi trasformate in ingegneri mi spiace abbandonate non sarete più umani però vabbè dai si sopravvive se ne accorgono più gli altri di voi in realtà no dai che fate vabbè quindi teniamo un po' aperte queste queste possibilità tanto qui stiamo giocando per capire quindi qua abbiamo abbiamo deciso prendiamo un nome ufficiale da qualche parte consideriamo i nomi doppi come diversi e determiniamo magari la frequenza massima e tutte le persone che hanno quella tale frequenza massima poi se abbiamo voglia tempo potremmo anche fare altre due e qui dentro ci potrebbe anche essere un e e poi anche questo e poi anche quest'altro oppure un o o fai l'uno o fai l'altro dipende ok adesso preoccupiamoci ancora dei dei vincoli abbiamo capito il problema abbiamo dato una specifica il vincolo è che noi queste cose qua questi dati li dobbiamo avere in questo caso dove li prendo i dati i nomi delle persone trovare il nome registrato allora qualcuno mi dice li prendiamo dalla da zoom no non li posso prendere da zoom perché sì molti si sono a parte che zoom ha un campo di testo unico perché sono i furbi non hanno messo nome e cognome hanno messo come si chiama il un campo di testo unico così non si sono dovuti chiedere come sia parlare nome e cognome sulle basi del delle delle varie culture diciamo così di provenienza delle persone io però voglio un nome registrato quello ufficiale e quindi dovrei riuscire a prenderlo dal Politecnico allora sul portale della didattica c'è questa informazione io adesso non so se funziona in questo modo ma se funziona ve la faccio vedere vedi quando non serve funziona eccolo qua questa è la pagina che vedo io dove vedo i vostri nomi i vostri nomi sono qui posso visualizzare l'elenco eh sì magari sì arriva ok e quindi ci sono tutti e guardate che sono già divisi per cognome e nome quindi io basta che prenda passi due giorni a fare copia e incolla di questi no non è vero non c'è bisogna fare copia e incolla c'è la possibilità qua in basso di esportare direttamente i dati quindi in questo caso ho già ho già questa informazione o meglio il Politecnico l'ha già raccolta per me e sono fortunato voi questa parte con questa operazione ovviamente non la potete fare eh ma eh io sono fortunato perché posso eh estarlo direttamente da quel database quindi questi dati li posso prendere ho già il nome separato chiaramente dove ci sono i doppi nomi c'è già lo spazio in mezzo no? come sono stati inseriti come sono stati registrati ufficialmente dal Politecnico frenate non stiamo ancora decidendo come farlo stiamo ancora capendo cosa fare eh il problema è che devo cambiare la formulazione della mia specifica perché se io decido di prendere i dati da qui io prenderò i dati di tutti gli iscritti al corso ma la mia specifica diceva consideriamo i nomi delle persone presenti nell'aula che sono una cosa diversa siete tanti siete quasi tutti ma non siete tutti gli iscritti al corso allora qui abbiamo un problema nel senso che ho dei dati che sono facili sono puliti sono ben organizzati sono una figata basta scaricarli ma mi danno una risposta leggermente diversa da quella che inizialmente chiedevo oppure mi vincolo questo è veramente ciò che volevo e allora però dovrò faticare se non altro mettere in relazione i vari nomi delle persone che sono iscritte a questo zoom con con i nomi che ci sono in database io per mia natura sono contrario a qualunque cosa che si basi su un faccio un sondaggio te lo chiedo un foglio presenza un modulo di google queste cose qua perché alla fine se sei fortunato l'80% ti risponde i 20% di dati che ti mancano ci passi il prossimo mese per cercare di recuperarli quindi se si può cercare sempre di recuperare i dati alla fonte allora visto che noi non vogliamo farci troppo male e alle 5 e mezza vorremmo andare a fare altro barriamo barriamo un pochino cambiamo la specifica e diciamo consideriamo i nomi delle persone iscritte al corso nessuno si vede distraetevi un attimo come in buon stile 1984 che il ministero della verità ha cambiato il testo e quindi più facile quindi già prima andava bene il problema era perfettamente ben posto purtroppo era un po' complicato rispetto alla disponibilità di dati ai vincoli reali cosa sono i vincoli sono ciò che nel mondo esterno nel mondo esiste di cui io ho bisogno di cui devo tener conto per poter risolvere il mio problema in teoria era perfettamente risolvibile anche il primo in pratica è meglio risolvere questo perché è più facile dato quella struttura di informazione se io avessi avuto che ne so un modo di avere l'elenco delle persone col nome ben definito colnesso a questa video chat non avrei avuto bisogno di cambiare la specifica sempre che nessuno abbia barato perché se qualcuno ha dato il link al suo cugino dicendo non ti puoi perdere questa nuova serie Netflix che è a corno allora avremo dei nomi in questa chat che non sono quelli delle persone iscritte al corso e quindi si andrà a capo ecco il dato non sarebbe validato oh santo c'era sì 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 scusate mi ha fatto venire domenica mi ha scritto domenica mi ha scritto in privato mi ha fatto venire un infarto dicendo ma questa lezione la stai registrando io ero convinto di sì ma e poi però mi è venuto il dubbio sì sì è registrata e verrà pubblicata insieme alle altre se avessimo fatto lezione su sito del poll sarebbe stato più facile no Girolamo perché eh ci ho provato prima sulla virtual classroom puoi scaricare l'elenco dei presenti quell'elenchino che vedete io posso fare scarica ma mi dà una riga di testo per ogni riga e quindi avrei poi dovuto io capire dove era il nome dove era il cognome allora una persona che ha due nomi e un cognome o due cognome e un nome avrei avuto il dubbio di come fare a tagliarlo a separarlo e quindi avrei avuto un problema in più diverso no mentre invece da questo elenco CSV diciamo così tutto quadra bene ok e quindi ci siamo un po' chiariti su che cosa vogliamo fare smettete di fare le suocere sulla chat a questo punto cominciamo a pensare abbiamo capito cosa ci serve e cominciamo a progettare cioè a pensare quale possa essere una soluzione progettare nel senso di decidere qual è la strategia e gli strumenti per poter arrivare al risultato ok non colgo la provocazione di Roberto che voleva assolutamente contarli se provi a contarli contali poi te ne do 100.000 e cambi idea noi abbiamo sempre quest'idea qua della vera soluzione generale ma non è tanto la vera soluzione generale è che se tu ti fossi messo a contarli anche l'analisi l'approfondimento che abbiamo fatto del problema non l'avremo mai condotta fino a questo punto con questo livello di precisione non è che quando devo fare un muro la prima cosa che faccio è cominciare a mettere i mattoni la prima cosa che faccio è prendere le misure e anche in informatica in qualunque disciplina tecnica o ingegneristica ok però adesso abbiamo finito la fase di analisi analisi è interroghiamo noi stessi interroghiamo il problema interroghiamo il mondo e cerchiamo di capire cosa vogliamo fare la fase di presentazione adesso è la fase creativa artistica quasi artistica però vincolata noi siamo artisti come informatici ma il nostro strumento chiaramente non è il pennello ma è la logica decidiamo quale strategia adottare allora proviamo un po' a pensare come poter arrivare attenzione nessuno mi parli di vettori di variabili di cose che hanno a che fare con i linguaggi di programmazione cerchiamo allora immaginiamo di voler descrivere come fare a partire da questa informazione di prima le persone iscritte al Politega al corso quindi sappiamo quali sono i nomi eccetera eccetera qual è la strategia da usare per ottenere quello che volevamo quindi la frequenza massima di nomi e quindi i nomi che hanno la frequenza massima io ci vedo diversi modi diverse strategie possibili pensiamo proprio di farlo a mano non mi ricordo più chi era che ci teneva tanto a contare a mano Roberto anche per contarli ci vuole una strategia perché tu prendi prendiamo il primo il primo in ordine alfabetico si chiama Matteo e vabbè e poi tu potresti dire scorriamoli tutti e vediamo se ci sono altri Matteo allora Matteo ne ho trovato uno andiamo avanti 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 non ne sto trovando nessun altro spero di non perdere nessuno di vista però se ne trovo un altro segno due con il dito e vado avanti così fino in fondo ok poi dopo prendo il secondo e vado lì e conto quanti ce ne sono fino in fondo e questo è un modo voi ne state già scrivendo altri cerchiamo di di sbozzarli alcuni quindi strategia uno prendo il primo nome e cerco quanti altri si chiamano come lui ah ovviamente nota ho diviso ho già diviso i nomi doppi in due ok come fossero due persone poi passo successivo e lì conto quindi mi scrivo nome e conto ok ho trovato Matteo e la contazione sono sette allora mi scrivo su un foglio di carta Matteo spazio sette poi passo successivo e vado avanti così finché ce ne sono questa è una strategia poi c'è qualcun altro che dice voi state dicendo strategia due metto i nomi metto le persone in ordine di nomi in ordine alfabetico per nome va bene e poi e poi applico qualcosa quello di simile alla strategia uno direi lui dice Savio dice così che possano contare in successione tutti i nomi uguali maschi e femmine non c'entra niente secondo me non ci aiuta perché dovrebbe aiutarci non parliamo di variabili stiamo parlando di strategie ok metto le persone in ordine alfabetico per nome a questo punto cosa faccio a questo punto se l'ho in ordine alfabetico vuol dire che tutti quelli che si chiamano nello stesso modo sono vicini e quindi li posso contare più facilmente questo è l'intuizione però dall'intuizione alla procedura ci vuole ancora un pochino quindi vuol dire che identifico a questo punto il primo blocco di nomi tutti uguali di nomi uguali tra loro e poi e poi no quelli con due nomi li ho già separati quindi compagno già su due righe ok identifico il primo blocco di nomi uguali tra loro e poi salvo mi scrivo il nome e la dimensione del blocco e poi passo al successivo al blocco successivo e invece prima dovevo passare al nome successivo i nomi uguali sono già di seguito infatti li ho chiamati i blocchi perché sono blocchi consecutivi quindi sono più facili da contare vuol dire che se i Matteo lo faccio qua se gli Alberto sono tutti vicini faccio in fretta contarne quattro se invece li avessi ordinati per cognome contare quattro Alberto mi avrebbe richiesto di scandire tutti i nomi quindi in qualche modo siamo sembra più più comodo più veloce ma è così che fareste? sì può darsi no vanno bene io ne vedo altre strategie possibili uno prendo il primo nome Matteo e comincio sì ma i secondi nomi li abbiamo smarcati Giuseppe Francesco conta come se fosse un Giuseppe e un Francesco no no li separiamo guarda la nota che ho scritto ho detto ho già diviso i nomi doppi in due so che non si capisce ma presuppone che chi è nomi doppi compaglia già due volte su due righe separate ok guarda che la stessa dobbiamo farla noi dobbiamo imparare a farla strategia tre quello che farei è prendere magari il primo nome e dire ok io ho il primo nome scrivo Matteo uno mi ho trovato uno poi c'è Luca Luca uno poi c'è Michelle uno Ivo uno eccetera 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 a un certo punto dirò ho trovato un altro Matteo allora anziché scrivere di nuovo Matteo uno scriverò magari Matteo due cioè correggo il nome che avevo là sopra attenzione Alberto conterrei la frequenza di ogni nome è una tautologia fa attenzione come lo esprimi perché ho capito che tu avevi in mente ma tu stai dicendo che per determinare la frequenza cosa faccio calcolo la frequenza mi hai risposto nei termini della domanda non vale non abbiamo fatto un passo avanti facciamo attenzione è la cosa difficile qua perché noi dobbiamo riuscire a scindere un'intuizione che per noi è un compito banale questo però bisogna riuscire a scindere in passi piccoli chiari concreti specifici ok e quindi cosa vuol dire questa strategia no la strategia in questo caso dice considero considero il prossimo nome se non l'ho mai visto se non l'ho ancora visto scrivo nome 1 se l'ho già visto scrivo aumento il numero a fianco del nome e poi ripeto passo al prossimo nome allora tutti voi dite ma sta roba è contare ma certo è che è contare stiamo facendo questo stiamo facendo un conteggio di frequenze ma è contare in modi diversi la strategia 3 e la 1 sono diversi perché nella 1 prendo il primo nome Matteo e poi vado a leggermi tutti i numeri successivi per vedere se ci sono degli altri Matteo dopo che ho finito la prima passata ho il numero definitivo dei Matteo 7 ma non sono nulla sugli altri poi prendo Luca farò una passata intera e avrò il numero definitivo dei Luca quindi una volta che trovo il numero non cambia più la strategia 3 invece dice prendo Matteo diciamo che ce n'è uno ne ho visto uno scrivo uno poi se più tardi ne vedrò un altro prendo quell'uno lo cancello e ci metto 2 a suo posto quindi io l'uno che ho messo non era definitivo ma era provvisorio è chiaro che ti dici ah che bello perché faccio una passata solo per averli tutti faccio una passata solo per averli tutti ma trovare un nome ho una difficoltà in più che è quella di trovare se il nome c'è già stato oppure no se l'ho già visto oppure no vedete che questa domanda l'ho già visto oppure non ho ancora visto negli altri casi non c'era Alessio dice no ma la 2 è più bella e ho capito però devi metterle in ordine allora a questo punto siamo capaci a mettere in ordine alfabetico prendo 300 nomi e mi le metti in ordine alfabetico sei sicuro che è più veloce? magari sì magari no vediamo non c'è nulla di scontato qua ok qui devo avere l'elenco di nomi già visti qui devo essere in grado di mettere in ordine l'elenco delle persone non solamente di nomi già visti la prima sembra più stupida e sembra anche più lenta sembra che tu faccia più lavoro ma questo lavoro è un pochino più idiota ho bisogno di essere un pochino più idiota dipende poi in realtà la risposta a quale sia la strategia migliore non la possiamo dare anche qua dipende quanti sono i dati dipende se io ho o non ho nel mio sistema un modo semplice per ordinare in ordine alfabetico i nomi se ho in ordine alfabetico un sistema per per memorizzare i nomi già visti e accedere rapidamente ma sono tutte cose diciamo così scelte che vanno in una logica di efficienza queste tre strategie io quello che direi è che sono tutte tre giuste giuste nel senso che arrivano al risultato cioè in tutti e tre casi arriva lo stesso risultato ed è corretto ok poi magari una è più efficiente dell'altra una è più veloce magari una è più efficiente quando ho pochi dati un'altra è più efficiente quando ho tanti dati oppure una è più semplice da scrivere scrivo meno righe di codici anche se il programma è un pochino più lento fa lo stesso mentre l'altra magari è molto più veloce ma devo lavorare due giorni per scrivere il programma perché è molto più sofisticato sono i compromessi di progetto sono tanti modi diversi di arrivare allo stesso risultato lo stesso risultato deve essere lo stesso perché io voglio risolvere comunque lo stessa specifica che quella di prima ci arrivo da strade diverse tutte devono essere giuste ma se ci mettiamo a pensare anziché tre ne facciamo trenta di strategie di questo genere sapendo che ne parliamo meglio domani a partire da domani però adesso qui stiamo scrivendo in italiano però voi pensate di prendere questa strategia e non essere voi a doverla applicare ma raccontarla a qualcun altro che lo debba fare voi dovete prendere una persona diversa da voi che non ha la comprensione del problema a cui non avete spiegato cosa deve fare gli date in mano i dati gli date in mano le istruzioni e gli fate farlo allora ci sono problemi di ogni ordine ne parliamo meglio però questa persona magari sa o non sa fare l'operazione di mettere in ordine alfabetico e se non lo sa fare la strategia 2 non è non è applicabile a meno che voi non insegnate a vostra volta come fare a mettere le persone in ordine alfabetico il computer non capisce niente il computer esegue gli ordini che gli diamo gli unici a capire il problema siamo noi e li dobbiamo formalizzare in una serie di passaggi che noi sappiamo siano giusti siano quelli che portano al risultato poi il computer li esegue quindi noi dobbiamo fare due sforzi il primo sforzo è quello di dire ho capito il problema ho pensato un modo per risolverlo poi magari anziché pensarne uno ne penso sette ho pensato un modo per risolverlo e sono sicuro ok su questo non ci può mettere la firma nessuno sono sicuro che questo modo è corretto che mi dà il risultato giusto io qua avrei dei dubbi attenzione questo blocco può essere da uno a cinque deve avere almeno due nomi oppure può essere anche solo da uno ci sono dei casi particolari che dovrebbero essere pensati meglio però noi siamo complicando il problema il problema l'abbiamo fissato non torniamo indietro attenzione alle frecce il problema l'abbiamo fissato adesso stiamo cercando di capire come risolverlo ok tutti quelli che dicono basta cliccare su ordinare basta mettere su excel eccetera ovviamente stanno scherzando lo sanno anche loro non 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 cadono in quella provocazione perché visto che noi dobbiamo invece costruire la soluzione non usare un programma che qualcun altro ha già fatto per costruire quella soluzione ok la progettazione poi a questo segue diciamo così ne scegliamo una di queste una di queste una di queste strategie a piacere se non abbiamo altri criteri di scelta magari poi li avremo ma per ora diciamo così lo scopo del ragionamento è quello di di capire quali sono i passaggi logici ok prima ho capito il problema e adesso capisco qual è ci metto la mia intelligenza per dire io lo so risolvere e lo so risolvere così a questo punto il passo dopo è quello di dire ok facciamo in modo di descriverlo in un linguaggio che un computer possa comprendere quindi da questa strategia questa strategia viene tradotta in un prima in un algoritmo vediamo poi domani la definizione che cos'è non possiamo fare tutto oggi e poi in una soluzione codificata cioè si traduce in una serie di istruzioni le operazioni che abbiamo in mente che abbiamo diciamo così i vari passaggi di questa strategia che abbiamo definito questa strategia come si come ben descritta sono già quasi degli algoritmi ok perché ti danno già una sequenza di passi abbastanza ben definita con la quale puoi arrivare alla soluzione questa sequenza di passi dovrà essere eseguita da un computer e quindi la devo poi descrivere codificare in una forma che il computer sia in grado di capire sia in grado di eseguire e a questo servono i linguaggi di programmazione sono linguaggi di programmazione in cui non c'è la parola considero non c'è la parola passa non c'è la parola sì sarà magari la parola uguale ci sarà il modo per dire uguale o diverso ci sarà un concetto di prima e dopo ci sarà un concetto di ripeti per quello successivo si chiamano con delle parole chiavi particolari ogni linguaggio ha le sue parole chiavi e in qualche modo hanno tutti i costrutti principali diciamo di base simili tra di loro ma questa è la parte più facile nel senso che una volta che io ho ben chiaro qual è l'algoritmo quali sono i passaggi probabilmente bisognerà scriverlo a un livello di dettaglio ancora superiore rispetto a questi e questo dipende poi dalla vostra capacità di programmazione se io sono più abituato a lavorare con un linguaggio di programmazione allora magari mi basta una riga di questo genere e scrivo 10 istruzioni in python che danno le istruzioni danno i comandi per eseguire quell'operazione se invece non sono ancora molto fluente nel linguaggio di programmazione magari devo dettagliare un pochino di più l'algoritmo in forma testuale o in forma di diagramma di flusso per coloro a cui piacciono i diagrammi di flusso io sono sempre odiati perché disegno malissimo e occupano tanto spazio ma a parte quello è comunque un ragionamento che facciamo ancora noi carta e penna allora il ragionamento mi serve più dettagliato se sono meno agile con il linguaggio di programmazione man mano che divento più agile con il linguaggio di programmazione posso dare per scontate delle cose in più e quindi a livello di carta e penna di algoritmo posso a livello di carta e penna di algoritmo posso essere un pochino più astratto un pochino più ad alto livello ma ovviamente devo sapere come mi chiede Lorenzo devo sapere quali sono le parole chiave del linguaggio questo lo fa non lo decido io lo decide il linguaggio di programmazione che mi mette a disposizione delle parole chiave delle funzioni che io posso usare quindi devo conoscere quali sono le funzioni messe a disposizione dal linguaggio di programmazione ma lì si impara è una cosa facile tutto sommato è la parte facile la parte difficile è avere la strategia giusta poi una volta che ce l'ho e ce l'ho chiara in testa allora è facile tradurla nel linguaggio di programmazione l'errore che fanno in molti è partire dal linguaggio di programmazione e cominciare a scrivere istruzioni senza avere ben chiaro qual è il punto d'arrivo qual è la strategia complessiva allora lì sei sicuro di andare contro un muro ma non solo qui non c'è solo scritto codifica della soluzione cioè scrivo il programma c'è scritto test e debugging vuol dire che una volta che il programma l'ho scritto devo provare se funziona e vi stupirà ma a qualunque programma voi scriviate non funziona la prima volta non funziona perché non funziona chi lo sa devo trovare l'errore l'errore magari un errore stupido di battitura magari l'errore ad esempio qui c'è un errore madornale in queste nostre strategie tutte queste strategie nostre a parte che implementano solamente il primo pezzo di calcolare la frequenza dei nomi e non di determinare calcolare le frequenze non ancora di determinare il nome il nome migliore ma poi non lo stampano non lo fanno vedere qui non c'è scritto stampa visualizza per cui è un programma che lavora calcola lui il programma sa quello è il nome migliore ma non te lo fa vedere perché? perché ti sei dimenticato di scrivere stampa il nome più frequente quindi ci sono magari degli eroi banali hai dimenticato una stampa finale e allora l'aggiungi e poi lo riesegui oppure degli errori di algoritmo in cui proprio il metodo risolutivo non funziona oppure funzionerebbe ma l'hai implementato male per cui quando c'è qualcosa da conteggiare parto da zero poi incremento mi sono dimenticato di azzerare sono partito da uno anziché partito da zero sono tutti errorini che faremo che faremo tutti scopriremo e però si va alla caccia dell'errore tenete presente che normalmente si dovrebbe allocare tanto tempo per il debugging vedere perché non funziona e correggere i problemi quanto tempo abbiamo impiegato alla progettazione e implementazione e questo dobbiamo tenere a conto non si può mai pensare che una cosa appena finita funzioni appena finita sono a metà quando ho finito di implementare qualcosa sono a metà perché l'altra seconda metà è quella di farla funzionare per davvero trovare gli errori sintattici trovare gli errori di distrazione trovare gli errori logici trovare gli errori di algoritmo di strategia e magari ci sono delle cose a cui proprio non avevamo pensato e alla fine maledizione ti accorgi accidenti non ci ho pensato questo è un caso enorme devo rifare tutto questa strategia proprio non funziona perché e mi sono dimenticato di una cosa e capita capita può succedere e purtroppo è così nel senso che l'informatica è così ma non è solo l'informatica è tutta la progettazione il buono dell'informatica è che di solito non facciamo troppi danni nel senso che il debugging si fa in simulazione nel senso che tu esegui il programma non funziona non è che costruisci un edificio crolla allora ne costruisci un altro scrivi un programma non funziona allora lo correggi però anche non funziona attenzione non è così banale perché immaginate che noi facciamo eseguire il programma quello quello nostro non dei nomi di battesimo e lui ci dice che il nome di battesimo più frequente è non so Anton Giulio ecco visto che prima si è lamentato io qualche sospetto ce l'ho con tutta la simpatia per Anton Giulio qualche sospetto ce l'ho che quel programma sia sbagliato o lui mi ha passato 20 euro sotto banco e l'ho fatto uscire oppure magari conta il nome meno frequente anziché quello più frequente oppure conta giusto e stampa quello sbagliato quindi per sapere se il programma è giusto io innanzitutto devo sapere quale sarebbe la risposta corretta che deve dare poi magari la risposta corretta la provo su un esempio di 10 nomi e non di 300 perché così è più facile controllare l'occhio quindi anche solo capire se un output dato dal programma è corretto o no non è banale e dipende anche dall'input che gli do allora è vero lo provo solo con 10 nomi allora devo provare un programma con 10 nomi tutti diversi poi un altro programma con 10 nomi tutti uguali così vediamo se risponde bene un programma con 5 e 5 un programma con 4 e 6 lo provo con combinazioni diverse fino a quando avendone provato un po' di combinazioni sono ragionevolmente sicuro che in tutti i casi che gli ho proposto lui funziona correttamente e spero spero di essere abbastanza intelligente da aver pensato tutti i casi possibili non tutti i nomi possibili ma tutte le casistiche possibili che potranno verificarsi se non sono abbastanza intelligente la prima volta che vedrà una casistica a cui non avevo pensato il programma tirerà fuori schifezze anziché il risultato corretto e la colpa di chi è? mia non è del computer quindi mi dispiace devo dirvelo è la prima lezione ma devo dire subito dirvi le notizie brutte non è mai colpa del computer mai non è mai colpa del compilatore non è mai colpa del sistema operativo di Windows no dietro la tastiera ci siamo noi tra la tastiera e la sedia c'è l'unica persona l'unico elemento intelligente di tutto questo gioco siamo noi e quindi dobbiamo prenderci gli oneri e gli onori ok supponiamo quindi aver finito questa parte qua allora poi possiamo finalmente eseguire il programma e farlo funzionare con dei dati reali e avere finalmente il risultato che volevamo quindi siamo partiti purtroppo incontrando una persona nel mercato facendo quattro chiacchiere e ci siamo invece portati a casa una giornata di lavoro per diciamo così cesellare limare i dettagli di quello che significava il problema di quello che poteva essere un tipo di soluzione io vi ho ho provato a fare anche questo questo esercizio quindi ve lo faccio vedere una possibile soluzione questo qui allora qui con il nostro PyCharm Edu che inizieremo a usare io ho fatto l'operazione di codificare allora innanzitutto questo è l'ho tirato giù il file che c'è scritto dal portale della didattica esporta in formato csv quindi ho esportato in quel formato il formato csv il file contenente i vostri nomi adesso semplicemente l'ambiente di sviluppo me li colora per facilità di lettura e questo è un file di testo che contiene tutti questi nomi sono 325 righe alla faccia di quello che le volevo contare a mano ok dove ci sono tutte queste informazioni con questo file ho creato un piccolo programma che adesso non vi sto a commentare se non per sommissimi capi alla fine se non sbaglio ho usato una strategia molto simile alla strategia 3 e tanto per farvi capire è il grosso modo il livello di difficoltà dell'esame finale che faremo ok grosso modo gli esami finali di informatica saranno esercizi di questo tipo c'è una serie di dati sui quali devi fare certi tipi di operazioni di analisi eccetera eccetera di ricerche tanto per dire questo è il il programma scritto in linguaggio python adesso in realtà poi ci sono dei commenti perché in realtà ne ho fatte più versioni uno avendo un linguaggio più evoluto l'altro meno evoluto ma alla fine diciamo così il flusso è questo io qui mi sono scritto di questi qua col simbolo di cancelletto sono i commenti quindi sono cose che scrivo per me quelle che invece sono scritte nella rete sono l'istruzione vera e propria del programma allora innanzitutto leggo gli studenti dal file estraggo i nomi perché di tutti i dati del file non mi serve a nulla se non i nomi e in questa stazione dei nomi li separo separo dove ci sono gli spazi e questo l'ho fatto con una funzione che ho chiamato estrae i nomi che ho scritto qua sopra questo in realtà non separa i nomi ho sbagliato l'avevo fatto qualche giorno fa non ho pensato al nome doppio e me lo sono già dimenticato questo è già un primo errore che ho trovato semplicemente esaminando il codice perché lui estrae la seconda parola la terza colonna di questi dati ma poi li considera come un nome unico quindi a differenza di quello che abbiamo detto prima Melissa spazio Yolanda viene considerato come un nome solo e non come il nome Melissa e poi il nome Yolanda quindi questo è questo il programma giusto ma che fa la cosa sbagliata nel senso che è sbagliato nel senso che non fa ciò che dovrebbe fare fa un'altra cosa che potrebbe essere giusta se io avessi avuto una richiesta diversa una specifica diversa ok quindi purtroppo già questo primo errore l'ho già trovato tenete conto che anche i programmatori quelli professionisti io sono un professore non sono un programmatore ma un pochino me la cavo ma anche i programmatori professionisti che scrivono codici tutto il giorno si stima che ogni 10 righe di codici 10-15 righe di codici ci siano gli scappi di errore allora qui ci sono tra l'altro alcuni anche costrutti che non useremo nel corso ma perché era solamente per velocità mia di realizzazione questo è il codice che ho scritto a partire da ragionamento credetemi per chi non ha mai programmato credetemi che la parte di scrivere il codice partendo da ragionamento è la parte più facile si tratta di imparare cosa è open cosa è def cosa è return cos'è for eccetera eccetera i vari costrutti del linguaggio ma questi sono all'inizio può sembrare una cosa strana visto se l'avessimo fatto in C sarebbe stato ancora più curioso con i vari percento e commerciali e parentesi graffe ma non ci dobbiamo preoccupare adesso di questo ok è solo per far vedere com'è fatto il risultato finale il risultato finale è un file di testo con dei comandi dentro e questi comandi li ho scritti io cercando di interpretare al meglio delle mie capacità la strategia che avevo deciso io che dovrebbe cercare di risolvere il problema che avevamo analizzato e avevamo definito per bene proviamo a vedere poi rispondo alle varie domandine che sono uscite in chat vediamo l'esecuzione allora in PyCharm Edu questo triangolino qua verde che compare sulla linea 1 avvia l'esecuzione del programma e il programma dice che nella classe ci sono 324 studenti il nome più frequente compare 12 volte e è Andrea e quindi se vi chiamate Andrea siete nel nome tra i nomi più frequenti comunque i nomi che compaiono più di una volta sono questi e sono indicati qua questi sono i nomi che compaiono più di una volta e ho fatto uno sfruttettino in più cosa che non fa parte del programma del corso però già che c'ero con due istruzioni in più ho fatto anche l'istogramma che fa vedere in ordine quali sono le frequenze di questi vari nomi quindi Andrea poi c'è un Lorenzo al secondo posto poi abbiamo Matteo Francesco pari merito Luca Alessandro pari merito Gabriele Marco pari merito Riccardo Mattia Simone e così via quindi questo è il risultato di questo programma che speriamo sia corretto risponda correttamente alla richiesta iniziale e questo è il nostro punto di arrivo quindi siamo partiti da una specifica informale l'abbiamo tradotta in una specifica formale abbiamo trovato una strategia di risoluzione e questo è il passo creativo è qui che ci sta l'ingegnere nella progettazione anche un po' poi nella realizzazione ma la realizzazione richiede molta più tecnica ma ormai la creatività è finita nel senso che la parte difficile l'hai già fatta prima qui si tratta poi di andare avanti con metodo andare avanti con ordine andare avanti con conoscenza del linguaggio eccetera e tanta pazienza tanta tanta pazienza a volte scappa la pazienza mettetevi vicino qualcosa che possiate rompere facilmente in modo da non dover rompere il computer o altre cose quando vi scappa la pazienza e poi alla fine finalmente abbiamo il programma finito questo è il percorso che faremo ogni volta allora rispondo solo a un paio di domande che ci sono nella chat ad esempio sul discorso di python dei puntatori in realtà il modello dati del python lo vedremo tra due settimane è abbastanza diverso da quello del C e di fatto se vuoi sono tutti puntatori ma sono gestiti in un modo trasparente per cui gestisci il linguaggio non hai bisogno di preoccuparti nel passaggio by reference nella locazione della memoria è tutto già gestito automaticamente dal linguaggio ma in realtà ogni variabile è un riferimento a un valore quindi per chi conosce già il C questo è una cosa abbastanza diversa che all'inizio un pochino può spiazzare ma poi è molto più regolare è molto più diciamo così semplice da applicare anche strutture dati più complicate cioè in C è facile lavorare con interi che sono valori direttamente dentro la variabile ma quando tu cominci ad avere dei dati strutturati cominciano a nascere i casini in python invece è più facile fare entrambe le cose vi voglio dare ancora due due flash su che cosa può succedere dopo alla domanda di Paolo rispondo tra un attimo sul laboratorio cosa succede dopo cioè noi adesso facciamo il corso di informatica in cui impareremo appunto soprattutto un pochino di problem solving e un pochino di linguaggio python cosa succede dopo dipende da che cosa fate io ho provato a spulciare la guida dello studente per vedere quali sono i corsi di tipo informatico che vengono dopo il primo corso di informatica per ingegneria informatica voi sapete che avete nel secondo semestre un corso che si chiama tecnica di programmazione dove si fa il linguaggio C quindi il linguaggio C che l'anno scorso si facevano tutti al primo anno invece in questo anno in questo caso lo fanno gli informatici in un corso che si chiama tecnica di programmazione secondo semestre del primo anno e gli elettronici che fanno un corso che si chiama algoritmi di programmazione ma è estremamente simile a questo poi gli informatici chiaramente proseguono con un corso di algoritmi di strutture dati che continua sempre in C poi ci sono le basi dati che si fa le sequelle calcolatori elettronici si vede un pochino di hardware un pochino di assembler anche di programmazione la parte di sistemi operativi dove si cominciano ad esserci tutta la problematica dei device driver Linux come è fatto dentro non solo come usarlo ma soprattutto come è fatto dentro e come comincia a esserci provenne dalla concorrenza cioè cosa succede quando ci sono più cose che vanno avanti in parallelo programmazione oggetti si prende il linguaggio Java e in realtà probabilmente si potrebbe anche continuare un pochino col Python come stile di programmazione appunto si chiama oggetti Python è un linguaggio oggetti ma noi non useremo quelle parti all'interno del nostro del nostro programma del corso reti di calcolatori e controlli automatici sono i corsi che finiscono al terzo anno di informatica gli altri che fanno un po' di informatica sono gli elettronici poi passano il secondo o terzo anno lo passano a fare l'elettronica analogica e digitale quindi non fanno più informatica propriamente detta chi fa invece electronics and communication engineering fa un corso simile a questo analogo a questo ma lo fa al terzo anno anziché al primo chi altri fa un po' di informatica sono soprattutto gli ingegneri del cinema e gli ingegneri gestionali che fanno a questo punto base di dati e programmazione oggetti tecniche di programmazione è un corso simile a quello di algoritmi ma più semplice più applicativo e qui c'è un corso di web il corso di web c'è anche qua dentro computer grafica poi c'è base di dati rettifica accorto vedete che grosso modo sono un po' riusati in modo diverso produzione industriale vi accontentate di me non fanno altri corsi di anche meccanici non hanno altro di corsi fatti dal dipartimento di informatica all'interno di quei corsi di laurea non c'è altro no e lo so che stupisce stupisce anche me però chi ha deciso questi corsi di laurea essenzialmente ci sono a conticino ma è scritto qua c'è algoritmi programmazione oggetti basi dati computagrafica retti di calcolatori qui parlo di triennale poi ci sono i magistrali dopo ok per chi dovesse passare sappia che il corso del secondo semestre è diverso per i vari corsi di laurea quindi il corso che date immagino che uno sia adesso stia facendo meccanica e vuole passare in informatica quindi lui avrà un corso nel secondo semestre può decidere se darlo e gli verrà riconosciuto come crediti liberi voi sapete che nel secondo o nel terzo anno ci sono dei crediti liberi oppure non darlo e dopo il passaggio si farà diciamo così questo corso in arretrato nel nuovo corso di laurea dopo che è stato approvato però questo siamo così siamo un po' in chiusura e quindi non voglio entrare nei dettagli di questo avete un anno di tempo per pensarci quindi io sono qui per farvi appassionare all'informatica quindi voglio che tutti lo facciate e vi piacciono per scelta e vi vogliate tuffare ok e dopo dopo quindi il dopo informatica l'abbiamo visto nella triennale e il dopo dopo la triennale è la magistrale e quindi vi do solamente lo spunto di quelle che sono le lauree magistrali nel settore dell'ICT nel settore diciamo così dell'informatica dove c'è informatica cinema e data science in engineering e meccatronica che sono quattro appunto grossi percorsi di laurea magistrale biennali se volete ne possiamo parlare verso la fine del corso con un pochino più di calma oppure magari tra due anni mi date un colpo di telefono e mi dice senti spiegami un po' queste cose ma la cosa importante che volevo dirvi è che tutte queste lauree qui triennali permettono di accedere a queste lauree di tipo magistrale informatico cosiddetto senza debiti non serve dare degli esami in più mentre invece gli altri tipi di lauree hanno bisogno di un percorso integrativo che magari sono 30 crediti 20 35 così quindi un semestre un po' più di un semestre un po' meno di un anno per potersi iscrivere eventualmente a questo tipo di lauree matematica è una via di mezzo nel senso che se fate le scelte oculatamente nella triennale allora non avete debiti per passare alla magistrale del settore SIT quindi questo per darvi un minimo di contorno io però spero che al di là di questi corsi che sono i corsi di informatica riusciamo a lavorare insieme e darvi un minimo di spunti in modo che possiate che ne so nel corso di analisi in quello di chimica in quello di geometria che avrete dopo in quello di fisica in quello di meccanica che avrete di aerospaziale o tutto quello che farete abbiate ci mettiate un po' di informatica perché di fatto oramai è ovunque in qualunque strumento voi usiate alla fine i concetti base della programmazione ci sono ovunque essenzialmente ok qui il tempo che avevo a disposizione per la lezione di oggi è finito l'abbiamo usato più che altro per cercare insieme di capire qual è il filo conduttore del corso quali sono i tipi di ragionamenti che andremo a fare poi a un certo punto nelle lezioni diventeremo molto più tecnici andremo a vedere qua ci vuole lo spazio qua ci vuole due punti eccetera eccetera e va bene impareremo proprio le tecniche però non vorrei perdere di vista l'obiettivo complessivo ok per tutte le domande più pratiche di organizzazione del corso e cose di questo genere io sapevo già che non ce l'avrei fatta perché poi qua giustamente e mi ha fatto molto piacere la vostra interazione siamo riusciti anche io davanti a me ho una finestra con 200 quadratini neri ma so che dietro ci siete voi quindi questa interazione anche via chat mi ha fatto molto piacere perché effettivamente ci esercitiamo insieme e ragioniamo insieme io ho caricato su youtube ma è anche linkato sul sito del corso quindi su questo sito qua dove vi ho dato il link politò informatica aspetta che ingrandisco un pochino se andate a vedere nelle lezioni esiste le lezioni in questa prima lezione c'è già un video questo video è una mezz'oretta che ho registrato oggi pomeriggio in cui vi racconto le cose pratiche gli orari il laboratorio la divisione in squadra eccetera eccetera e quindi vi andate a guardare questo video tanto non c'era bisogno di molta interazione semplicemente ero io che blatteravo e poi domani o la settimana prossima quando ci vediamo di nuovo entreremo più nel dettaglio anche di quello se avete delle domande così ve le guardate e me le potete fare con calma quindi non vi annoio in quella parte quindi io adesso qua sono le 17.30 sento suonare le campane quindi è ora di staccare vi ringrazio ci vediamo domani alle 10 tenete d'occhio Slack perché vi dirò se lo faremo ancora su Zoom oppure se lo faremo sul portale della didattica incrociando le dita buona serata a tutti e guardatevi questo video che trovate sul sito arrivederci arrivederci grazie arrivederci grazie a tutti